Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di The Walking Dead The Final Season L'ultima stagione, siamo all'episodio 3 finalmente dopo il casino che è successo tra Telltale che è fallita Skybound che ha comprato, che è riuscita a comprare i diritti di The Walking Dead E parte del team di Telltale per continuare questa serie e portarla alla fine Finalmente ci siamo con questo terzo episodio di questa The Final Season Andiamo avanti amici, con questo episodio giocattoli rotti per l'appunto Che tra l'altro dovremmo anche vedere qua, esattamente giocattoli rotti Eccoci qua con Clementine, con il piccolo AJ, che cosa succederà lo capiremo subito Amici vi ricordo che in descrizione trovate i link con tutte le playlist Mi raccomando utilizzate le playlist, sono importantissime se non volete perdere neanche un video Le playlist vi permettono di seguire un'intera stagione in ordine Senza perdervi neanche un episodio, sono importantissime le trovate sul canale Detto questo vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, una condivisione Importantissimo per un canale che non prende neanche un euro È fondamentale e direi che ci vediamo subitissimo in game Ma come al solito, in questo genere di video, dove voglio massimizzare al massimo la grafica E non farvi distrarre dalla mia faccia, dalle mie espressioni, eccetera eccetera Ovviamente togliamo la webcam, e come? Così Via la cam! E la cam se ne va, e noi avviamo l'episodio 3 amici Finalmente Vediamo cosa è successo negli episodi precedenti Eh Marlon E AJ l'ha fatto fuori, ve lo ricordiamo Ovviamente queste sono scelte che abbiamo fatto, eh, nella serie Esattamente È ritornata a Lily Ed era un sussurratore James Un ex sussurratore Non credo in che uccidere i walkers Non credo in che uccidere i walkers Mi aiutano a trattare AJ Ma senza la reale medicina Non non farà Non farà Non le raggiungi non le scendere i AJ E ci rimaneremo in un'esplice E ci rimaneremo in un'esplice Dopo che ci ho raccontato Cosa potremmo la scuola Perciò che ci rimaneremo Ci rimaneremo Perciò che ci rimaneremo Almeno, fino alla città Cosa Inizia Mi aiutato a lui aiutare a lui A lui A lui A lui Esattamente, ve lo ricordiamo. Eh sì, un prigioniero. E secondo me iniziamo proprio da qui. Ne ero abbastanza sicuro anche dopo aver visto parte, cioè il trailer, averlo commentato assieme. Lo trovate nelle playlist del fottuto vlog. E devo dire che sono emozionato nel ripartire. Oh, eccoci qua. Forse la mattina dopo della battaglia a giudicare dal posto, direi proprio di sì. Dopo che c'è stata questa battaglia con uccisioni, fuoco, esplosioni, c'è stato un po' di tutto. Guardate che casino. Ah, quello mi sa che è Mitch... Eh sì, Mitch è morto. E ricordiamo che è successo un casino qua durante la battaglia. Insomma, beh, l'abbiamo visto anche nel riepilogo. Sto notando come, sapete cosa? Le texture sono molto migliorate, anche i colori. Sono più dettagliati. Skybound ha colpito anche qua. Sa che qua bisogna... Bisogna consolarlo. Lui non si... Lui non si arrenderebbe, cerca di reagire, lo vindicheremo una persona... Cerca di reagire, forza! Eh sì, Mitch reagirebbe. Abbiamo il modo di salvare i nostri amici, bravo. Sfonderemo il cranio a Lily, beh, forse... Poseggerato, però... Magari, ci proviamo. Ebole vivo ha perso i sensi, possiamo probabilmente interrogarlo a questo punto. E dobbiamo anche seppellire Mitch. Povero Mitch. E sapevo che si arrabbiava con lui, perché... Giustamente, Ten... Per le sorelle... Ten non ha colpa. Oddio. Ho fatto un po' di casino, ma diciamo che non ha... E lui è arrabbiato, però. Non usa la forza, cioè, dobbiamo interrogarlo e usare la forza, ce lo dice. Quindi bisogna essere un attimino cattivi. Quindi, un interrogatore l'hanno buttato nella cantina dove era successo il casino, tra l'altro. Vabbè, adesso non stiamo qua a perdere tempo sulle varie storie, nel senso che Ten, ci ricordiamo cosa ha fatto. Il povero Mitch è rimasto morto. Cioè, robe brutte. Andiamo a analizzare la situazione adesso, dicendo subito che... Cioè, io noto le texture molto migliorate. Guardate. Le texture sono molto migliorate. Probabilmente Skybound ha già iniziato... Piccolo lavoro qua, un gagliardetto della scuola. Cosa facciamo? Glielo spestiamo in testa. Forse è un collezionabile. Non credo che il gagliardetto della... Della scuola sera, infatti. E stavo dicendo che Skybound probabilmente ha già messo mano su qualcosa, col suo team, unito al team di Telltale rimasto. Allora, andiamo a vedere se trovi a qualcosa. Qua c'è del nostro adesivo che dovrebbe bastare a tenerlo fermo. A quel tizio lì che è senza anche un braccio. Cioè, sbaglio o è senza un braccio? Oh, qua abbiamo la macchia di sangue che forse è della collutazione, esatto, di Brody. Casino... Eccolo lì. Sì, è senza un braccio. E accarezza Rosy. Vediamo un po' Rosy. Vediamo, eh. Bella Rosy. Possedi Rosy? Ora è il mio cane. Fantastico. Qua non c'è niente. Qua c'è un'altra salita che dovrebbe dare dentro la scuola. E qua... Oh, è la piccola Jay che si diverte con la pistola. È tipo roulette russa. Pronti? Beh, diciamo che siamo pronti. Colpiscilo, bagnalo, il gridagli contro, fallo svegliare dai Jay. Allora, è qua... Allora, colpiscilo. Vediamo un po'. Colpiscilo, sì. Potremmo colpirlo, gridagli contro. Ma... Sapete cosa mi piacerebbe? Bagno. Pace! Beh, l'acqua gelata in faccia. Il modo migliore per... Sbollizzare uno subito. Eccolo lì. Sbollizzare uno subito. E' nell'interrogatorio. Come da telefilm o da film che si vedono. Bisogna essere un po'... Un po' tranquilli ma anche cattivi a volte. Dice in prima. E' anche tenuta mi incontratta, ma non sarebbe una presa... Oh, oh, oh. Fa pure lo spiritoso. Vabbè, fa lo spiritoso. Fa lo spiritoso. E non è conciato bene, mi sa. Ma io preferiria andare al sogno, quindi... Sto non mi cree. Ma gli ha scassato. Gli ha scassato uno osse. L'ha fratturato. Cos'è succede? Piano con le fratture, infatti. Non mi piace la tua voce. Calmiamo a Jay, iniziamo con lo zuccherino. È la prima volta, vero? Probabilmente sì, però... Andiamo improvvisando. Esatto, Jay ci dove ha portato gli altri. Cioè, tu sei sicuro che lei verrà a riprenderti? Sguinzaglio a Rosie, Lily, non ci spaventa, colpisci la testa, ti hanno abbandonato. Io sguinzaglio a Rosie. Visto che c'è, utilizziamolo. Abbiamo usato lo zucchero. Adesso usiamo, anzi la carota, adesso usiamo il pastore. Non lo hai in te. No? Vai! Eh, sulla gamba direi! Adesso vediamo se ce lo dirai. C'è lì dove hanno portato i nostri amici, così che possiamo portarli. Lily non li perdurrà. L'unica razza che venivamo qui era per più di potenza. Lui perdono Jonathan e me. Lui è convinto che Lily tornerà. E mi dicono come me che puoi fare la matta su quella. Siamo tornando. Non lo sai cosa è come là. È un bambino. Un'unica comunità contro l'unica. Un'amico contro la costa. L'amico lo conosce molto bene Clem. Si chiama rapimento quello che ha fatto. Gli diamo qualsiasi nome che vuoi. Lo chiamiamolo Survival. Quale tipo di posto è questa Delta se usano il lavoro forse per proteggerla? Lui in effetti sta proteggendo le sue cose. Appunto darei tutto per proteggerla. Però ciò non mette in dubbio il fatto che l'avete rapito con la forza. Ok. Lasca davanti la risposta a tutti i tuoi dubbi. Vediamo. La mappa. Cosa c'è? E' un passo della Bibbia questo. Cosa c'è? Il libro del Levitico. Della Bibbia appunto. Cosa c'è? 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 Fate! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? credo così, Squirt eh, meno male se no istighiamo a moice e alla violenza quando mi hai scaraventato eh sì è sfuggita di mano, siete venuti armati e sparando tutto si è venuto fuori di mano ora guardami ho un f***o messo si 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 tornerà non si deve si tornerà così se morirà la mia vita tutto il che ho avuto ho avuto con le due mano e il mio抵imento per la mia corpo per prendere le persone per prendere le persone veloce che ho trovato, Lilly Eh, siamo arrivati a un accordo. Hai la mia parola. Se sei sincero con me, ti metterò fuori dalla tua miseria. Tu hai la mia parola. Ok, abbiamo un barco. Abbiamo portato un po' di mezzo da qui. Abbiamo avuto un po' di pesce. I tuoi amici sono sul barco. Tu hai quello che vuoi? Porro, non mi lascia diventare una delle cose. Porro, non voglio. Non voglio. Non quello. Voglio... E sparmi alla faccia? Non sei costretto a guardare. Non devi guardare questo. Voglio. Tu. Piccolo Jay è diventato... veramente una roba assurda. Vai. Secco nel cervello. Mamma mia che brutta scena amici. Io pensavo che non... facesse vedere proprio la scena. Invece è stato così. Allora... Almeno non può farlo più di nessuno. Sì. In te... Cerca in te una guida per compren... Hai appena torturato un uomo di fronte a lui. No, in realtà... Volevo torturare... Cioè, però ho dovuto farlo... parlare. Però... Stava... Stava sformando. E tra l'altro adesso tornando in noi... Cerca una barca. Barca che... Abbiamo visto anche nel menù l'oblò della barca. The Walking Dead. L'ultima... Stagione. Questo rosso vivo. Vediamo un po' amici. Qui... La vedo già dura. Abbiamo già compiuto un'azione. E... In questo gioco... Come vi ho sempre detto... Non c'è giusto o sbagliato. Ci sono scelte da fare. Possono essere giuste... O interpretate giuste... O interpretate sbagliate... Ma in ogni caso... Dobbiamo fare delle scelte. Non c'è giusto o sbagliato. Assolutissimamente. C'è una scelta che si può fare... E una scelta che si può... Fare diversa. E' quello incagolato con Ten. Non è l'acqua di Ten. E' l'acqua di Ten. E' l'acqua di Ten. E' l'acqua di Ten. Mission. Tutte le playlist... Le trovate ovviamente... In descrizione. Però... Vediamo un po'. Saranno veramente lì? Sarà una trappola? Noi ci siamo fidati. La strada di legno sull'acqua. Un pontile. E' un pontile. E' un pontile. Ok. E' un pontile. Ok. La strada di legno sull'acqua. E' una piccola EJ. E' un po'... Vabbè che... Non ha... Fatto scuola diciamo. Però cavolo. Vabbè. Spia i predoni. I pedroni. I pedroni stavo dicendo. I predoni. Spiamo. Ah tra l'altro qua possiamo parlare con Violet. Possiamo parlare con Mitch. Ok con Willy che è incavolato con Mitch. Stavo dicendo Mitch ma è Willy. Si sembra di costruire materiale. Furniture. Probabilmente strada dalla stazione di treno. Allora. In effetti qua c'è... Delle zattere. Zattere per il fornimento. Potremmo bruciarle o tagliare le funi. Oh qua c'è qualcuno tra l'altro. Il fornimento. Ma... La parca è il posto dove si nascondono oppure stanno preparando per andarsene? Torce possiamo utilizzarle per bruciarle. Abbiamo detto. Why? Noi. Possiamo usare il fuoco. Esatto. Il fuoco può servirci. Molto bene. Ora proviamo ad andare verso Lily a questo punto. Anzi Violet. Si Lily. Ciao amici. C'è oggi questa puntata. No. Marlon ci mantiene confinati nella zona sicura. Ok. Qui Marlon. Pier che sull'autore? È il nostro solo modo in e fu. Allora. Vediamo cosa c'è qui. Allora. Vediamo cosa abbiamo. Allora innanzitutto c'è un sentiero. Diversivo forse lo sappiamo già. Vaganti. Usa le armi a go go eh. Non hanno paura di sparare. Palestre. Fucili. C'è un po' di tutto. Maybe if we could get walkers on the beach somehow. Maybe not as hard as you'd think. Andiamo a vedere. Ci sono altre casse. Nel modo. Il pier ha plenty of cover on it. If we're careful we can sneak in undetected. Sempre se riusciamo a fare il diversivo. There are few on deck. Couple others on the pier. Could be more inside. Looks like they're well armed too. Eh si. Sembrano molto bene. Non solo armati. Molto ben armati. Eccolo. Ecco Lewis. Eccolo. Abel non era la mia. Questo è tutto. Beh. Diciamo che Abel. Abel. O Abel. Come lo chiamano loro. Una ne ha fatta giusta. Cioè ci ha detto le cose vere. Quella è l'entrata. E giustamente le navi hanno due bocche di carico. Occhi. Eccolo. Eccolo giusta. Eccolo. In forma... Piccola apertura. Sembra fatta per Ej. Chissà che ci deve entrare. Cosa ci deve entrare. Cosa ci deve entrare. Eccolo magari è sotto il deck. Dobbiamo chiedere Abel. E io pensavo che il suo suono. E non ho pensato che sembra molto grande. Diciamo che Abel ha fatto il suo Anche se non ha detto troppo Ma ha detto quello che serviva Allora andiamo qua dal piccolo Jay A questo punto È piccolo Jay Hanno dei cavalli Allora Sì in effetti hanno dei cavalli Quindi l'idea è Slega i cavalli Brucia di là Il legno e attira i vaganti Non si sa come non si sa dove Abbiamo una torcia Due torce per la precisione Molto bene Credo che dobbiamo fare il piano Però avete visto la barca Eh amici Ok Cosa è il progetto? Ci sono dei guardi postati sul piero e sul canale. Non c'è modo che possiamo prendere loro all'inizio all'inizio all'inizio. La nostra speranza è di distrattare loro mentre stiamo portando. Dobbiamo arruinare le cose. Ci funzioni. Potremmo arruinare il suplice o il haye per i bambini. Allora, io brucerei il fiero, così scappano i cavalli, però le scorte non si rovinano e ne possiamo rubarli. Il fiero è la nostra distraczione. Se vai a uscire dai bambini, devi farlo in attenzione. Non farlo in un altro modo. Il fiero loirà i raideri fuori dal canale e possiamo scappare al piero. Se qualcuno lo vede, lo scurranno. Ricordate quello che ti ho detto, James? L'ho sentito i walkers per salvare noi da Lily e Abel. Potremmo potremmo convincerlo di farlo ancora. Ah, dobbiamo convincerlo lui. Per usare gli zombie. Questa è un'ottima cosa. Chissà se però accetterà il James, l'ex sussurratore. Perfetto. Ma che va dopo che otteniamo tutti a casa? Cioè, i raideri sono venuti a attaccare noi da nuovo. Che allora? Oh, c'è lì. Vai, nasconditi. Il diavolo è quello lì. Qualcuno che è andato a far legna. Un altro da interrogare, via. Ma prima va catturato. Non so se è un predone. Penso di sì. Interroga il predone. Dove tornete i prigionieri? Dalla voce un po' da bambino. Dalla voce un po' da bambino. Un altro da bambino. Un altro da bambino. Sono tutti là. Clementine, aspetta! Oh! Mimmi! 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 È la sorella di Ten! Cioè, credo. È da quello che mi ricordo. Ah, scusa. Tenne di colore non può essere sua sorella. Cioè... After the attack, I wasn't sure. I mean... I heard they burned half your school down. Who survived? Ruby? Mitch? Brody? Tenne? Tenne! Tenne! Mitch didn't. And Brody, um... She died. Tenne's boots holding up ok? His boots? They're so old. They're more holes than rubber. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. Tenne's boots are fine. In me, appunto. You're Clementine. The girl who took over after Marlon died. It's weird. I thought everyone would want to lean on their own. But you must have put in charge. It just sort of happened. Is that the kind of wishy-washy bullshit you see to everyone back home or just me? Excuse me? It's just you, eh? April figured he could talk to Marlon and handing everyone over, like he and Lily did, but... Like they did before. You ruined the whole plan. Piano? A me sembra... Suicidio. Suicidio. Yeah, and we all survived. Marlon would have never made them fight the way you did. He wouldn't have gotten people killed. Certo, adesso, ma dopo... Glenn protected us. Marlon ha ucciso Brody. He murdered Brody. What? Esatto. Where's Sophie? She alive? She... She died. She died. I died. I died. I died. A face that would have made anyone to fight. A hero? A hero? Oh my God! You're... You're... Shit. A me... A me... A me... A me... A me... P seminarian. A me... Au grounds of life, is it? Procure of life. In the shadows. In the shadows. Non parlerà. No, per fortuna non ha parlato. Per fortuna non ha parlato. Oh se ne vogliono andare Ma con quella barca lì Ma sei assicuri che va? Ten proverebbe vergogna Vediamo se la smuove un attimo Se la lasciamo con questo pensiero Quindi dobbiamo attaccare Non possiamo aspettarli Avanti col piano direi Niente ha cambiato Il nostro plan è di andare in un po' E salvare i nostri amici Esattamente Sono d'accordo anch'io Al netto di tutto quello che è successo E di tutto quello che sappiamo adesso Dobbiamo trovare James L'ex sussurratore Io pensavo ancora sussurratore Ma è ex sussurratore E di là si preparano Questo è il piano Quindi amici Siamo già sulla direzione Questo è il nostro piano Questa è anche la fine Di questa puntata Amici vi ricordo di lasciare un bel mi piace Un commento Una condivisione E ci vediamo nel prossimo video Di The Walking Dead The Final Season Grandissima Skybound Che ha acquistato I diritti acquisati Ha acquistato i diritti Da Telltale E prendendo gente di Telltale Possiamo continuare a goderci Questo capolavoro Detto questo amici Ci vediamo appunto Nel prossimo fututo video Della Morisio è tutto Ciao E nel prossimo fututo video Ciao a tutti Ciao